Allora Capodanno cinese domani 14 febbraio 2015 siamo a Piazza del Popolo a Roma e ci hanno spiegato qui alcuni, un giapponese tra l'altro, ci ha spiegato che il Capodanno cinese varia di anno in anno e capita di San Valentino perché domani è San Valentino, festa degli innamorati, 14 febbraio 2015, il Capodanno cinese ci saranno delle feste, delle parate in costume, vedete il grande palco di concerto qui a Piazza del Popolo, ci sarà una parata che vedrà anche il Tridente, via di Ripetta, lì alla destra, via del Corso al centro, via del Babuino dall'altra parte della sinistra. Bene, allora qui siamo a Piazza del Popolo, una sera si prevede, oggi è un bel tempo, hanno mantenuto il tempo, ecco qui, stanno provando, stanno provando anche il palco enorme dove c'è stata la manifestazione dei grillini del Movimento 5 Stelle il 24 gennaio. Per il momento è tutto, quindi Capodanno cinese, dalle ore del pomeriggio di sabato 14 febbraio, potete venire anche qui a Piazza del Popolo a godervi, perché è a Roma, a godervi questo spettacolo. Ciao a tutti!